Dai vieni che ti porto Dov'è il bar dei tuffi? Si lavora e si fatica per il cane e per la fica Staresti bellissima Le like e ho metto questo con essa Cosa stanno facendo questi signori? Seba e Marco Togni fanno una passeggiata per le strade di Tokyo Fornendoci rivelazioni shock Ciao a tutti vi presento Marco Togni Attenzione Ciao Bene Marco Togni Com'è stato il tuo viaggio in Italia? Allora faremo un raduno Sai che faremo un raduno? Ah si? Di raduni in Italia Ho mangiato sushi con Yuriko Sushi con Andrea Secco Sushi per le 8000 La mattina a Tsukija alle 5 di mattina Ma dove ad Okami sushi hai mangiato? Eh non lo so In un posto che mi ispirava così Voglio vedere qua se c'è un gioco Che voglio comprare Voglio vedere se ce l'hanno ancora Allora Lo voglio comprare ma costa tanto praticamente no? E sono due mesi che l'ho addocchiato ma ancora non sono sicuro se lo voglio comprare o meno Vediamo se c'è ancora No eh dovrebbe essere di qua Vediamo se c'hanno ancora il gioco che vorrei Sai che l'hanno venduto mi sa? Ah no c'è ancora Però 8600 E quell'altro ha 11000 Potrei quasi comprarle Sono introvabili questi Hanno venduto tipo 60.000 copie Perché è una versione strana di questo gioco Ovviamente ci abbiamo il permesso per fare le riprese Prendiamo anche Hadoop Hadoop A Hobiop E Hobiop Guardate che meraviglia Questa è famosissima Questa è quella di Disneyland vero? Puoi comprare solo a Disneyland Oh mio Dio Marco Togni Ho un vestito per il prossimo video Per quando ritorni a fare video Te lo metteresti questo per quando ritorni a fare video? Sì 2000 iene basta Ce lo prendiamo per il prossimo video Se volete Marco Togni Adesso quando facciamo il nuovo like Con le super chat Lo indosserà Restaresti bellissima 1000 like e metto questo promesso No 1000 like ci arriviamo Ok Bene Io cosa mi metto? Secondo te questo? No Questo però non mi entra Scusate ma purtroppo non mi entra Questa è la Sailor Moon dei poveretti Cosa mi consiglieresti di mettermi? Questo Questo Ah questo sarebbe figo però Fammelo provare Chi ne dite? Sta bene Sta bene Non costano tanti Questi Infatti voglio quasi Questo 3000 iene Questo è bello anche questo Questo tipo 1000 iene potrei comprarlo 3200 è troppo Guardate tipo proprio questo Perché fa molta scena No è vero Lo vuoi comprare? No adesso No Vabbè allora se volete che compriamo Vi lascio il mio Paypal Nei commenti Se ci inviate 2100 iene Lo comprerò per Marco Togni E lo indosserà Mi sembra una cosa giusta Guarda che non sto scherzando È una cosa seria questa Guarda che poche costano Costano pochissimo Tipo questa costa 8 euro Sì 7 euro 7 euro E mi sembrava 900 Ma che meraviglio Guardate questi due Cosa stanno facendo Cosa stanno facendo questi signori Non è male comunque questo hard off Hobby off C'è anche hard off C'è anche hard off Ci sono Eh un altro Sono tipo tutti Sì Tutti queste cose vedi off Sono sempre di solito Dei negozi dove vendono cose dell'usato E sono carini ogni tanto Questo è proprio particolarmente bello Guardate che bella questa Oh questo è un Bulbasaur Guardate che figo il Bulbasaur con il Lego Quante giappo minchiate Guardate quanti peluche Tipo io magari per il background Potrei iniziare a comprarmi un po' di questi Tipo questo quanto costa? Questo Kirby Ah no questo costa Mamma mia Tu vai nei medi usato proprio Tipo 500 cosa mio Li vendono grandi così 200 yen Eh perché tipo per farsi sai Per farsi magari un video con tanta cosa Questo che personaggio è scusi? Guardate quanto è strano Io sai che un giorno faranno Un giorno faranno l'action figure mio Faranno il tuo action figure? Che mangi il sushi Che mangi il sushi Guarda Che bello Guarda che sta luce ti dona Devo dire che la nuova Cosa ne pensi di una nuova fotocamera? Comunque Marco 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 Togni Cosa ne pensi di questa fotocamera? Ti vedi più figo? Ti vedi più bello? Ti vedi più bello? Beh più bella vero? È una red È una red? No è nera Che belli Ma a te piacciono queste cose? Non sapevo che ti piacessero queste cose Marco Togni Non è che mi piaccia Sono proprio Da Laura Secondo me Oh mio No Harry Potter dei Lego È una cosa che si conosce Forse però io non La prima volta che lo vedo Ciao ragazzi Quattro mesi su YouTube E non sentirli comunque Allora Secondo voi Quindi avete Però almeno abbiamo scoperto Una cosa bella Mi raccomando eh Donazioni Ovviamente una volta che uno ha donato Scriva sotto che ha donato Che così non donati in 100 Perché veramente questo è tutto finalizzato A coronare il sogno di fare la drag di Marco Togni Se ne comprate due lo comprate io ovviamente Allora C'è una luce strana oggi Non so che cos'ha la mia fotocamera Però non vedo Dove si potrebbe andare? Stiamo facendo comunque Per chi volesse venire qua Stiamo facendo un giretto a Coenji In questa In questa zona di Coenji Dove La ridente cittadina Che ho vissuto io per un periodo Sembra un po' levico Sembra molto levico terme Infatti Per chi non conoscesse levico terme Andatevelo a cercare Io adoro questo ristorante E io ti giuro che a me Più dei sushi Piace molto di più il donburi Queste cose cose Cioè a me il sushi è veramente No Che a me piace il donburi Prendiamo un donburi Non hai ancora fame? No no ma io mi sa che veramente Non posso mangiare Non puoi mangiare Dai mangia un sushi Un sushi Cioè sto male Cioè veramente Stai male Stai male Ah le plastiche adesive Andiamo per le plastiche adesive Marco Togni ha una grande passione Per le plastiche adesive Oh finalmente qua la luce è decente Bene Che belle le plastiche adesive Cioè io sono venuto in Giappone Solo per le plastiche adesive Sì Le plastiche adesive Le plastiche adesive Meraviglia Bello Attenzione Oh mio Dio Questo qua c'era Una volta era un sushi Adesso è diventato nulla Un buco Io però c'ho fame veramente Facciamo un giro Sì Oh mio Dio C'è la pizza migliore del mondo laggiù Dopo Mosbagger Andiamola a provare La pizza burger di Mosburger Secondo me è meglio della pizza di Napoli Davvero? Sì 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 Pizza burger E poi c'è per le proteine Per le proteine Le fibre Le fibre Le fibre Le fibre Che magari avete fisse di Napoli Non sempre hanno Eh beh sì È proprio tutta un'altra cosa Guarda che qua c'è la ragazza Parla anche italiano ogni tanto Vuoi assaggiare? Non mi sa che non mangio Cioè veramente c'ha male Eh non so cosa da dirti Eh no no Qua c'è stata la ciambella o Sai quando proprio hai male? Marco Togni c'ha male Male al culo Perché praticamente Mi sono seduto su una bottiglietta Ma non l'ho fatto apposta Mi sono seduto su una bottiglietta di shampoo Mi è entrata tutto Eeeh Ma non l'ho fatto apposta L'avete sentito prima da me Sebastiano Serafini a cazzo Ma non so se questo verrà caricato Sul canale di Sebastiano Serafini a cazzo Qual è il tuo canale preferito? Sebastiano Serafini a cazzo O Sebastiano Serafini in Giappone? Il mio canale preferito è Sebastiano Serafini a figaz Non esiste ancora Non c'è Non è ancora pubblico No non è ancora pubblico Cioè mi sto aspettando che me lo approvino Il canale di Sebastiano Serafini a figaz Guarda che con gli orsetti Eh sì perché questo è il caffè con gli orsi Vedi c'hanno tutte Eh già Io comunque c'ho fame Cioè mangerò un sushi dal combini qualcosa Perché c'ho proprio fame Non i ghiri almeno Ma tu come fai a fare i video Mentre cammini e te Cioè la tieni in mano la fotocamera Non ho capito Cioè Come si fa? Così? Così Tu la tieni così e non hai paura che ti cade Questo è un udon buonissimo Se vi capita andatela Questo è il mio caffè preferito in assoluto È bellissimo Ti giuro è veramente bellissimo Ah no Vuoi entrare a vederlo? Anzi però Sai che c'è il caffè degli smalp? Dei puffi? No tipo dei puffi che è bellissimo anche Dov'è? Eh vuoi andare a vederlo? Lo vediamo da fuori Io comunque ho deciso che riprendo te Sai quando faccio i video con Yuriko Che facciamo tipo finta di Cioè non finta Che facciamo stile date no? No E allora facciamo così Ciao Marco Dov'è il bar dei puffi? Dai vieni che ti porto Dov'è il bar dei puffi? No non è proprio un bar dei puffi È che è un bar veramente piccolino E ti sembra di essere una mini casetta dei puffi E c'è sto profumo Cioè la vedrai La vedrai La vedrai Ma i puffi si fanno alla doccia? Si qualche volta Eh beh si se no non sarebbero blu E gargamella com'è? Gargamella Beh gargamella Gargamella sei tu? Due botte gliele darei Gargamella due botte Gargamella è il No lo so È il vostro È l'uomo Sì non è È l'uomo Beh gargamella è Brutto come Non lo so ma sai che poi Gargamella è il vecchio Che ero ai puffi Eh non lo so c'ha quel che Tu hai visto anche i film dei puffi? Sì sì Ti sono piaci Tutti e due? Eh non so Io ho visto il primo Tra l'altro lo sapete che la voce di Puffetta È tipo in aereo È quella di Katy Perry Il film dei Lego invece è figo Eh non ho visto il film del Lego Sto così a volte è in aereo E questa qua È meraviglioso Cos'è? È meraviglioso Stare in un team Stare in un team È la canzone dei Lego Mmm non la Non la No io no No devo dire che di ultimo faccio veramente fatica a trovare dei film che mi piacciono Io non li guardo i film anche in aereo No in aereo No ma io volo molto quindi ovviamente finisco per guardare Poi comunque a me piace guardare i film Che sai tra l'altro ho tempo di guardare i film Ho tempo di andare in palestra Di fare un video al giorno No io lavoro Compongo canzoni Cioè devo dire che ho un team che fa qualunque cosa Ora è che noi gente di un certo livello non abbiamo bisogno di lavorare Eh? Noi gente di un certo livello Eh non lo so quando arriva la tua età Magari arriverò anche a quella No ma io mi diverto a lavorare Non lavoro per i soldi Lavoro per passione Lavori per la ficca No no non è una cosa che mi manca Si lavora e si fatica per il pane Eh? Per la ficca Che belli questi detti Ma te li sei inventati tu Dai insegniamo qualche qualche proverbio Proverbio giapponese Uno dei proverbi giapponesi più bello secondo me è proprio questo che ho appena detto Cioè uno dei proverbi giapponesi più belli in assoluto è si lavora Qua è tutto lavoro Si lavora e si fatica per il cane e per la ficca Il cane è riferito a Hachiko ovviamente no? Il cane più famoso di Shibuya E non mi ricordo da che partessi E il ficca non... Scusa che... Spiega bene Il ficca è il dolce svedese ovviamente Si si rischiavano Cosa pensavi? No niente Vabbè io diciamo anche qualche... Diciamo anche qualche bel... Qualche bel proverbio di Trento dai Noi che siamo gente trentina Il ficca del fu è un pel de la mona che tu ti cavai de mezzo corona Vabbè per chi non l'avesse capito ehm... Ehm... Per chi non l'avesse capito... Pazienza Non vuoi dire uno ne conosce altri? Beh io adesso ve ne dico un altro Una donna senza tete Senti senti Le come una barella senza manette Bello anche anche una metafora della vita Guardate che meraviglia questa casa Allora adesso mi devi far vedere il bar di... Posso dirne ancora un paio? No basta Il bar dei puffi Il bar dei puffi E' quello laggiù Ma veramente Questa qua praticamente si può comprare tutto il natto che vuoi Io qua ci ho fatto già il video Hanno spostato praticamente un negozio che era laggiù L'hanno messo qui Hai capito che bello Questa è una natteria Una natteria Per chi non si è visto il mio video del natto La preview qua Vedetevi qua un pezzetto di video Marco Togni l'ha già visto Si ha un video dove mangia tutte queste schifezze che si chiama natto A te non piace il natto? A nessuno piace A me ma non è vero Piace un sacco di italiani in Giappone Viene da momentare Ce l'ho a pensarci Si Sa buono Va bene E poi siamo quello che monta Yari Si Yari taglia bene il video Non mettere... Taglialo bene Si si taglialo bene Bravo Bravo Yari che monti Monta i video o monta le fighe? Eh non lo so secondo me guarda se il canale prende bene a breve Yari monterà anche... Si si è italiano è nato in Italia E... Mi sembra che il mio vicino di casa si chiama... Yari? Yari è... Yari è... Passettino di tortina... Apre però a mezzogiorno Che ore sono? Sarà quasi mezzogiorno Si è quasi mezzogiorno Che ore sono? 11 e 44 Allora potremmo tornare qui al caffè dei puffi Ah beh comunque continua il nostro viaggio Marco Togni dai parliamo... Dobbiamo dare un senso a questo video Perché non ha senso questo video veramente... Dai possiamo mangiare almeno un pezzo di sushi? Un pezzo Un pezzo di sushi Davvero? Si Un pezzo solo Però entriamo e mangiamo... Sì andiamo al kite Ah entriamo e mangiamo solo un pezzo di sushi in due E poi usciamo E facciamo la faccia schifata Uno e uno io Prendiamo due pezzi di sushi Sì si 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 Andiamo a mangiare No io bene mangerò due dai anche tre No dai no mangia nessuno uno Ma si hai detto che ti viena a vomitare No poi quando sono lì mi vien voglia Eh ma Marco Togni il video vomito sushi Tienitelo per quando riapri il canale No un'idea bellissima era andare in tutti i ristoranti stellati Michelin Si E praticamente mangi e poi vomiti Fai la foto al risultato Cioè sai che figata La è atarte cazzo Dici questo prima era il manzo con arachnidi Quindi non è mangiato e frullato ma è mangiato e vomitato Andiamo adesso a mangiare sushi con Marco Togni Marco Togni ha un po' di disenteria Disenteria musicale Disenteria musicale Ho ascoltato qualche mia canzone Ho detto ma non è che sono proprio un bambino brutto Ma è una volta che mi hanno muociato Eh non so come eri da bambino Mi dai una tua foto da bambino che l'aggiungo qui Da bambino guarda era un bel ragazzo Eh mi ricorda di più pacciottello Io avevo visto dei vecchi videotoi del 2008 Ehm Ma tu la prima volta sei arrivato qui a 18 anni giusto? Ah è qua mi sembra che è Diciotto anni sì Diciotto anni Diciotto anni Diciotto anni Diciotto anni Mamma mia Sono arrivato qua Guarda che guida spericolata Voglio una guida spericolata Non lo so Venuto a Coenji oggi No comunque a parte gli scherzi si sta scherzando Mi fai una sigla dedicata anche a me Ok Sebastiano No però ti devo riprendere bene Poi la facciamo bene Dovamo pensarla bene Allora la sigla Com'è che possiamo fare? Sebastiano da Milano No no Ma sai che tra l'altro c'ho un mio amico giapponese che si chiama Ano Questo è un bel negozio Ho comprato della roba Eh madonna No ti giuro Ho comprato la maglietta Spiegalo a tutti Fa vedere Ho comprato la maglietta che ogni tanto metto con i gattini Blu e bianchi Ah l'ha comprata qui Guarda che belli questi Il giorno Sebastiano Serafini mi ha presentato Lorenz Un cameraman E' arrivato questo Io che sono un fotografo professionista Ho detto ma questo è bravo o è un pirla E io ho capito che era un professionista questo Lorenz Perché a un certo punto gli avevano prestato un obiettivo Ma giuro è la vera sta storia È una storia vera E Lorenz per pulirlo Allora il dilettante per pulire gli obiettivi professionali Il dilettante cosa fa? Va a prendere il panno di Dino Pulisce tutto Lorenz ha fatto come faccio io per pulire l'obiettivo E con la maglietta ha pulito Allora io ho capito subito che è un professionista Perché tutti i professionisti li abiliscono così Andiamo a fare un giretto dentro Adesso vi porto con ma E no ma davvero anche io abilisco così Mi giuro perché l'ho vista e ha detto questa tra Adorno Sebastiano Cosa? Questo posto qua mi ricorda quando ci stava In questo Giappone Basta No comunque qua tra l'altro io conosco il tipo E mi dice sempre che posso fare le riprese E gli ha già chiesto Perché questo è tipo un templetto semi privato Guarda che bel posto Siamo in un posto magico Me lo pulisci? No ma non questi obiettivi Lo pulisci? Qua siamo in un posto magico Adesso andremo su E Marco Tonio mi confesserà il suo amore Ah Marco Tonio Comunque no Realmente qui conosco il tipo E mi dice che posso far video Ma un po' ci sono un sacco di straniere Molto open questo posto Fammi la ripresa qua che salvo Guarda che bello Guardate che bello Marco Tonio Una visione in red Guardate che bello 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 Guardate che bello